Salve morta soffocata da un rigulcito la piccola speranza, la bimba di 20 mesi scomparsa il 23 dicembre scorso. Il padre, Slavko Severovic, avrebbe poi nascosto il corpo all'interno di un frigorifero abbandonato sulla 130 e gli avrebbe dato fuoco. L'uomo arrestato sabato dalla squadra mobile dell'acquistore di Cagliari insieme alla moglie Dragana Metovic, entrambi di 28 anni, avrebbe fatto questo racconto davanti al GIP del Tribunale di Cagliari nel corso dell'interrogatorio di garanzia che si è tenuto stamattina nel carcere di Uta. I genitori sono stati arrestati con l'accusa di omicidio aggravato, occultamento di cadavere, simulazione di reato e incendio doloso. L'uomo non ha confessato l'omicidio ma ha dato una versione diversa dei fatti. All'origine del suo agire ci sarebbe stata la paura di perdere gli altri quattro figli. Da qui l'incendio del furgone il 23 dicembre dove la famiglia abitava nel villaggio dei pescatori di Cagliari. Gli inquirenti ora dovranno cercare riscontri al racconto dell'uomo. Gli investigatori della squadra mobile insieme ai colleghi della polizia scientifica dovranno trovare i resti della piccola speranza e cercare se possibile di stabilire le cause del decesso.